Buonerba si presenta in Cassazione, punta il dito contro Palazzo Carafa. La sesta sezione della Suprema Corte sostanzialmente decide di non decidere, ritenendo che la scarcerazione dell'indagato abbia fatto venir meno l'interesse ad una pronuncia di merito. Ma, tra i motivi del ricorso, il suo legale Sabrina Conte sottolinea il ruolo di Aversa, Peila e Lisi, rispettivamente dirigente del settore mobilità e trasporti del Comune di Lecce, ex assessore ai trasporti e architetto del Comune. nella procedura di realizzazione del filobus. A suo tempo, già il Tribunale del Riesame aveva suggerito alla Procura di approfondire il ruolo dell'ingegnera Aversa, ma per quel che è dato sapere, si legge nel ricorso, la situazione delle indagini non ha offerto elementi ulteriori sotto tale profilo. Non vi sarebbe infatti alcuna prova, argomento illegale, che il suo assistito, arrestato il 13 dicembre scorso con l'accusa di concussione, poi riqualificata in corruzione dal Tribunale del Riesame e tornato in libertà lo scorso 12 marzo, abbia preso effettivamente parte alla predisposizione della gara d'appalto e alla successiva fase di aggiudicazione dei lavori del filobus, né tantomeno che fosse a qualsiasi titolo collegato con qualcuno dei pubblici ufficiali che quel ruolo rivestirono. L'unico incarico da lui ricoperto presso l'amministrazione leccese, si legge sempre nei motivi del ricorso, è stato quello di consulente giuridico dell'allora sindaco Adriana Polibortone. Attività consultiva, dunque, precisa e legale, che per quanto lo portasse ad affiancare costantemente il primo cittadino impegnato nella risoluzione di tutte le problematiche giuridiche che di volta in volta venivano lui sottoposte nel corso degli anni del proprio incarico, non consentiva alcuna interferenza né con la gara né con altre attività amministrative. Attività consultiva, che oggi, è bene precisarlo, è oggetto di un'indagine della Procura della Corte dei Conti, che ha ipotizzato in capo a Buonerba e alla Poli un danno errariale di 750 mila euro arrecato al Comune di Lecce sulla base della presunta natura superflua dei suoi incarichi. Nulla di fatto, comunque. La Corte di Cassazione non si pronuncia. Le novità, ora, si attendono a Lecce.